Cari amici e amiche del nostro canale, oggi vi portiamo una storia straordinaria, una lezione di vita che potrebbe cambiare la vostra prospettiva sul passato, il presente e il futuro. Ma prima di immergerci in questa meravigliosa storia, vogliamo chiedervi un piccolo favore, iscrivetevi al nostro canale e fateci sapere che ci sostenete. La vostra iscrizione ci aiuta a continuare a condividere contenuti significativi e ispiratori come questo. Oggi vi racconteremo la storia di Kenji il saggio, un uomo che ha imparato a vivere nel presente, a liberarsi dai legami del passato e a affrontare il futuro con serenità. È una storia di speranza, una lezione che tutti noi possiamo imparare per vivere una vita più appagante. Quindi, sintonizzatevi e lasciate che questa storia vi ispiri. Nel cuore di un antico villaggio giapponese, viveva un uomo di nome Kenji. Era un uomo di mezza età, con i capelli grigi che cadevano sulla fronte, come pesanti nubi cariche di malinconia. Il suo volto, una mappa delle sue esperienze e dei suoi rimpianti, portava i segni dell'età e delle preoccupazioni che lo avevano consumato nel corso degli anni. Le persone del villaggio conoscevano Kenji come un uomo gentile, ma sempre distante, come se portasse il peso del mondo sulle spalle. Era noto tra loro come Kenji il melancolico, un soprannome guadagnato a causa della sua costante tristezza. La sua malinconia non conosceva tregua, e si poteva vedere nei suoi occhi, nei suoi movimenti e nelle parole che pronunciava. Kenji passava gran parte del suo tempo a rimuginare sul passato, come se avesse imprigionato la propria mente in un eterno vortice di ricordi. I giorni migliori e le occasioni mancate lo perseguitavano costantemente. Si domandava come avrebbero potuto cambiare le scelte sbagliate che aveva fatto, o se avesse potuto dire le parole giuste nelle situazioni che aveva attraversato. Era come se fosse intrappolato in un loop senza fine di rimpianti e nostalgia. Le notti, però, erano le peggiori per Kenji. Il buio lo inghiottiva, e le ombre del passato sembravano aprirsi davanti a lui, rivelando tutti i momenti che avrebbe voluto cancellare. La depressione lo avvolgeva come una nebbia spessa, impedendogli di vedere il presente o il futuro con chiarezza. E così, Kenji continuava a vivere nella prigione del passato, incapace di liberarsi dai suoi legami con ciò che era stato. Non sapeva che il destino gli riservava un incontro che avrebbe cambiato la sua vita e che lo avrebbe portato sulla strada della saggezza e della serenità. Un giorno, mentre Kenji passeggiava tra i sentieri del villaggio, il suo sguardo cadde su una strada meno battuta. Si trovò di fronte a un bosco densamente alberato, un luogo che raramente aveva esplorato. La curiosità lo spinse a procedere, seguendo il sentiero stretto e tortuoso che si insinuava tra gli alberi secolari. Camminando tra i giganti silenziosi della foresta, Kenji giunse a una radura nascosta, illuminata dalla luce dorata del sole filtrante tra le fronde degli alberi. Al centro di questa radura, scorse una modesta capanna di legno, circondata da fiori selvatici e erba alta. Era un luogo di grande tranquillità, e Kenji si sentì attratto dal mistero che aleggiava nell'aria. Senza esitazione, Kenji bussò alla porta della capanna, e un anziano con la barba lunga e bianca aprì lentamente. Il vecchio maestro Zen si chiamava Hiroshi, un uomo di saggezza e profonda tranquillità. I suoi occhi riflettevano la serenità del mare calmo, e Kenji fu colpito dalla sua aura di pace interiore. Il maestro Hiroshi lo invitò a entrare e sedersi su un tatami, in un'atmosfera di semplicità e silenzio. Kenji spiegò il motivo della sua visita e confessò la sua lotta contro la depressione legata al passato. Hiroshi ascoltò con compassione e disse, se sei depresso, vivi nel passato. Se sei ansioso, vivi nel futuro. Se sei in pace, vivi nel presente. Le parole del maestro caddero su Kenji come petali di ciliegio portati dal vento primaverile. Era come se finalmente qualcuno avesse dato un nome alle catene invisibili che lo imprigionavano nei fantasmi del passato. Kenji sentì il calore di una speranza rinnovata, una fiamma appena accesa nel buio della sua mente. Da quel giorno in avanti, Kenji iniziò a frequentare il maestro Hiroshi ogni mattina. Imparò ad ascoltare il suono del vento tra gli alberi, a percepire l'odore della terra bagnata dalla pioggia e a contemplare il cielo stellato durante le notti serene. Hiroshi lo guidava nella pratica della meditazione e dell'arte di essere presente nel momento, senza lasciarsi trascinare dei ricordi dolorosi. Con il passare del tempo, Kenji notò un cambiamento in sé stesso. La nebbia della depressione iniziò a diradarsi, e gli spazi tra i ricordi dolorosi divennero sempre più ampi. La malinconia che aveva afflitto la sua anima cominciò a svanire, sostituita da una sensazione di calma e serenità. La sua mente, una volta tempestata da tempeste emotive, divenne un lago placido in cui il riflesso delle stelle danzava al ritmo della sua respirazione. Kenji imparò a vivere nel presente, a godere dei piccoli piaceri della vita, come il sapore di una tazza di tè verde o il suono rilassante della pioggia sul tetto di paglia della capanna di Hiroshi. Era come se avesse imparato a danzare con l'eternità nel qui e ora. Il vecchio maestro Hiroshi divenne il suo guida, il faro nella notte tempestosa della sua anima. Con le parole e l'esempio di Hiroshi, Kenji cominciò a scoprire il significato della vera pace interiore. Ma la lezione più importante doveva ancora arrivare, una lezione che lo avrebbe liberato anche dal peso del futuro incerto. Le giornate si susseguivano tranquille e rigeneranti per Kenji, ora che aveva abbracciato la saggezza zen insegnatagli dal maestro Hiroshi. Ogni mattina, si alzava presto e si dirigeva verso la capanna nascosta nella foresta, dove il maestro Hiroshi lo aspettava con la pazienza di un saggio eremita. La routine iniziava con la meditazione. Kenji si sedeva in silenzio accanto al maestro, seguendo il rituale di respirazione lenta e profonda. La mente di Kenji, una volta travagliata dai fantasmi del passato, iniziò a trovare la quiete. I ricordi dolorosi non lo tormentavano più come prima, poiché aveva imparato a lasciarli andare, a riconoscerli ma a non dar loro più potere su di sé. Hiroshi lo guidava attraverso le tecniche di meditazione, insegnandogli a concentrarsi sul presente. Mentre chiudevano gli occhi e si abbandonavano al silenzio, Kenji imparò a percepire il suono del vento tra gli alberi, la sua musica leggera e costante, un ricordo eterno del respiro della terra stessa. Nel corso delle giornate, Hiroshi portò Kenji a un livello più profondo di comprensione. Gli insegno l'arte della mindfulness, la consapevolezza di ogni momento, anche dei più piccoli dettagli. Kenji imparò ad assaporare ogni boccone del suo cibo come se fosse un regalo prezioso, a sentire la carezza del sole sulla pelle e a lasciarsi avvolgere dal profumo dei fiori nel giardino del maestro. Kenji iniziò a notare i cambiamenti in sé stesso che andavano oltre la scomparsa della depressione. La sua vita aveva acquisito una nuova luce, una bellezza nascosta che solo coloro che vivono nel presente possono percepire. Il passato aveva perso il suo dominio su di lui, e il futuro aveva smesso di essere una fonte di ansia. Viveva con gratitudine per ogni momento che gli veniva concesso. Tuttavia, la lezione finale di Hiroshi doveva ancora giungere. Mentre Kenji si sentiva sempre più in pace con il suo passato, si domandava come potesse affrontare l'incertezza che il futuro gli riservava. Avrebbe chiesto al maestro Hiroshi di insegnargli anche questo segreto? E se lo avesse fatto, quali parole di saggezza avrebbe ricevuto per affrontare il futuro incerto? Kenji continuò ad apprendere le lezioni di saggezza da Hiroshi, il maestro Zeneremita, e la sua vita si riempì di una profonda serenità. Aveva imparato a vivere nel presente, a godere dei piccoli piaceri della vita e a liberarsi dalle catene del passato. Tuttavia, rimaneva una domanda che tormentava la sua mente, come poteva affrontare l'incertezza del futuro? Un mattino, mentre meditavano nella tranquillità della capanna di Hiroshi, Kenji raccontò al suo maestro le sue preoccupazioni. Hiroshi lo ascoltò con pazienza, i suoi occhi sereni che sembravano penetrare nel cuore di Kenji. Hai imparato a vivere nel presente, Kenji, disse Hiroshi, e ora è il momento di applicare questa saggezza al tuo timore del futuro. Il futuro è un mistero che non puoi controllare. Ciò che puoi controllare è come affronti il presente. Le parole di Hiroshi fecero eco nella mente di Kenji. Imparare a vivere nel presente era stato un cambiamento profondo nella sua vita, ma aveva ancora bisogno di affrontare l'ansia che il futuro gli procurava. Quindi, iniziò a concentrarsi su ciò che poteva fare nel momento presente per migliorare la sua vita e quella degli altri. Kenji cominciò a coltivare un orto, piantando semi e curando le piante ogni giorno. In questo modo, imparò a connettersi con la natura e a nutrire la terra, come simbolo di crescita e speranza. Ogni giorno, guardava le piantine crescere, e questo gli ricordava che il futuro era un processo di crescita costante, una pietra dopo l'altra. Iniziò anche a insegnare ai giovani del villaggio le lezioni che aveva appreso dai Hiroshi. Li guidò nella pratica della meditazione, li incoraggiò a trovare la pace nel presente e a lasciare andare le paure per il futuro. La sua gentilezza e la sua saggezza ispirarono i giovani, e il villaggio cominciò a cambiare gradualmente, diventando un luogo di maggiore serenità. Il futuro, che una volta aveva provocato ansia in Kenji, divenne un'opportunità di crescita e cambiamento. Non sapeva cosa il futuro avrebbe portato, ma sapeva che poteva affrontarlo con calma e compassione. Viveva nel presente, abbracciando ogni momento come un dono. Il maestro Hiroshi osservava con orgoglio l'evoluzione di Kenji. Gli aveva insegnato la saggezza del Zen, ma Kenji aveva fatto il lavoro più importante, applicando tali insegnamenti nella sua vita quotidiana. La sua presenza stessa era ora una testimonianza vivente di come la saggezza del presente poteva portare la pace interiore. La lezione più grande di tutte era che la vita era un'opportunità per abbracciare il presente e costruire il futuro, passo dopo passo, senza paura e senza rimpianti. E così, Kenji continuò a vivere la sua vita con il cuore aperto al presente, portando la saggezza del maestro Hiroshi a generazioni future. La storia di Kenji il saggio divenne leggenda nel villaggio, un'ispirazione per tutti a trovare la pace nel qui e ora. Con il passare degli anni, Kenji divenne un uomo completamente diverso da quello che era stato un tempo. La sua trasformazione era stata così profonda che perfino il soprannome, Kenji il melancolico, sembrava ormai appartenere a una persona estranea, a un passato lontano. Il suo volto non era più segnato dalla malinconia, ma irradiava una serenità che aveva il potere di calmare le anime delle persone che lo incontravano. Gli abitanti del villaggio notarono il cambiamento e cominciarono a rivolgersi a lui in cerca di consigli e conforto. Kenji era diventato Kenji il saggio, un uomo che aveva imparato il segreto della pace interiore. Ogni giorno, Kenji condivideva le parole e le lezioni di saggezza insegnategli dai Hiroshi, il vecchio maestro Zeneremita. Insegnava alle persone del villaggio a liberarsi dai legami del passato, a smettere di preoccuparsi in modo eccessivo del futuro e a trovare la pace nel presente. Kenji divenne un mentore per molti, aiutando coloro che soffrivano a superare i loro problemi. Le sue parole gentili e il suo esempio di vita ispirarono molti a iniziare il proprio percorso verso la serenità. Aiutò le persone a comprendere che, come lui aveva imparato dai Hiroshi, la chiave per affrontare la tristezza del passato e l'ansia per il futuro era abbracciare il momento presente. Kenji iniziò a insegnare ai giovani del villaggio l'arte della meditazione, la consapevolezza e la gentilezza verso se stessi. Insegnavano loro a ritagliare un momento speciale durante la giornata per riflettere e connettersi con il presente. Questa pratica aiutò a trasformare il villaggio in un luogo di maggiore serenità e compassione. Le storie di Kenji il saggio si diffusero ben oltre i confini del villaggio. La sua fama crebbe e molte persone da altre località giungevano per incontrare l'uomo che aveva imparato a vivere nel presente e a condividere la sua saggezza con il mondo. Con il passare del tempo, Kenji iniziò a sentirsi sempre più in armonia con il mondo intorno a lui. La sua vita era diventata una testimonianza vivente della potenza del presente, della capacità di trasformare la sofferenza in saggezza e la paura in pace. La sua esistenza era una lezione di come abbracciare ogni istante come un dono. Mentre invecchiava, Kenji non perse mai il suo spirito. Continuò a essere un faro di saggezza e compassione per il villaggio e per tutti coloro che cercavano la sua guida. La sua storia era diventata una leggenda, un ricordo di come la trasformazione interiore fosse possibile per chiunque fosse disposto ad abbracciare il presente con cuore aperto. E così, il villaggio di Kenji il saggio visse in pace e armonia, ispirato dalla vita di un uomo che aveva imparato a vivere nel presente, senza rimpianti per il passato e paure per il futuro. La storia di Kenji il saggio è una testimonianza di come ognuno di noi abbia il potere di trasformare la propria vita attraverso la saggezza del presente. È una storia di speranza, di come possiamo liberarci dai legami del passato, abbracciare il presente e affrontare il futuro con serenità. La prima lezione che possiamo trarre da questa storia è l'importanza di vivere nel presente. Molte volte, siamo afflitti dai rimpianti del passato e dall'ansia per il futuro, dimenticando che l'unica realtà tangibile è ciò che accade in questo momento. Come Kenji ha imparato dai Roshi, il maestro Zen, la depressione e l'ansia spariscono quando impariamo a concentrarci su ciò che sta accadendo ora, lasciando andare il passato e abbracciando il presente. In secondo luogo, questa storia ci insegna che possiamo trasformare le nostre vite. Kenji, una volta noto come Kenji il malincolico, ha cambiato la sua storia diventando Kenji il saggio. Questa trasformazione è possibile per ognuno di noi. Possiamo imparare a liberarci dai pesi del passato, a trovare la pace interiore e a condividere questa saggezza con gli altri. La terza lezione è che il futuro è un mistero che non possiamo controllare. Nonostante i nostri sforzi di pianificazione e preoccupazione, il futuro rimane incerto. Tuttavia, possiamo affrontarlo con calma e fiducia, concentrandoci su ciò che possiamo fare nel presente per costruire un futuro migliore. Come ha detto Hiroshi, ciò che puoi controllare è come affronti il presente. Infine, la storia di Kenji ci ricorda che possiamo essere fonte di ispirazione per gli altri. Kenji ha condiviso la sua saggezza con il villaggio, ha insegnato ai giovani l'arte della meditazione e ha trasformato la sua comunità in un luogo di serenità. Possiamo influenzare positivamente la vita degli altri con la nostra saggezza e gentilezza. In conclusione, la storia di Kenji il saggio ci invita a vivere nel presente, a liberarci dai pesi del passato e a affrontare il futuro con calma e fiducia. Ci ricorda che ognuno di noi ha il potere di trasformare la propria vita e di ispirare gli altri con la nostra saggezza. È una storia di speranza, che ci ricorda che la pace interiore è alla portata di tutti coloro che sono disposti a abbracciare il presente con un cuore aperto. Grazie. Grazie a tutti voi per aver seguito questa straordinaria storia di Kenji il saggio. Speriamo che abbiate tratto ispirazione da questa lezione di vita che ci insegna a vivere nel presente, a liberarci dai pesi del passato e ad affrontare il futuro con serenità. Prima di concludere, vi chiediamo un piccolo favore che può fare la differenza, iscrivetevi al nostro canale, lasciate un like se avete apprezzato questo video, condividetelo con coloro che pensate possano trarne beneficio e non dimenticate di lasciare un commento con le vostre riflessioni e le storie che avete vissuto. La vostra partecipazione è fondamentale per sostenere il nostro canale e ci incoraggia a continuare a condividere contenuti significativi con voi. Grazie ancora per essere parte della nostra comunità. Vi auguriamo una vita piena di serenità, saggezza e ispirazione. Alla prossima!